ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video che riccio come state allora questo è un video che riccio che vi parlo che prima fatto video smr e questa volta invece faccio un altro video dove vi parlo un po di tutto insomma come state spero bene io mi sono tutta bella truccata perché così almeno non esco come un mostriciatolo su youtube e niente quindi praticamente ho fatto tutta la mia camera lo sistemata questo cavolo di cavalletto non voglio ma come dico io vabbè e niente allora il trucco è questo come potete ben vedere il trucco questo un po smangiocchiato però vabbè dettagli vedete questo è il trucco e gli ho messo un po ovviamente ho fatto la base stavolta ho messo il correttore fondotinta illuminante e blush e pasta altro niente ma scala e la paletta utilizzato questo aspettato secondo ho utilizzato questo vedete della supix extra spice adoro bellissima e niente quindi che dire tra poco se magna perché se magna però almeno sono riuscita a carica questo video di video asmr pulisci come motivazionale ma soprattutto di recensioni e niente quindi non lo so ragazzi io a se mi vedete leggera con con questo con questa maglia leggera e perché faccio troppo caldo sto cominciando a scaldare un po le temperature il clima si sta scaldando e io c'è un caldo poi allucinante però niente oddio che rossa che sono sono molto rossa si ho messo molto blush però niente vedete buia perché sono buia quadratura pessima lo so aspettate un secondo metto così così mi vedete meglio allora sono qua che sto cercando di registrare questo video per voi e nulla fino adesso era un giro mi sto cercando perché ho un progetto pazzesco però appena vincisco il ciclo mi faccio una bella doccia non ho bisogno e niente non dirò nessuno che faccio la doccia dopo il ciclo però vè niente è una vergogna lo so ma io sono fatta così solo dall'antica non so perché sembrano fine sono quasi inizio fine ottocento stronzate a parte però è così ragazzi mia e niente sono un po sbalottata destra manca perché sto cercando di fare tanti video non so quanto riuscirò a registrare aspettate un secondo è comunque allora ho messo un po il cavalletto come potevo peggio metterlo sperando che non casca il telefono fuori dal dal morso del cavalletto perché ho il cavalletto non quello da tavolo ho il cavalletto quello da terra quindi ecco perché siete agganciati lì niente vi stavo dicendo che in questi giorni farò altri video make up altri come se ne fosse che facessimo altri make up sì però qualche video make up diciamo anche più video smr voglio fare di make up vediamo non lo so questo cos'è niente quindi che dire ragazze io mi sono messa così come potete ben vedere a braccia scoperte e niente con questo pantaleggis aspettate un secondo che mi abbasso questo pantaleggis che vedete voi vedete c'è questo pantaleggis bello comodo un po caldo ma è comodo perché ancora io un po di freddo nelle gambe però vabbè e niente sì c'è questo pantaleggis caldo però questo bene e niente quindi non lo so ragazze io l'altra volta l'ho vestita così aspetta un secondo con questa camicetta qua vedete questa camicetta avevo questa camicia dell'altro l'altro giorno a sassari però faceva molto freddo non molto non appena molto avete questa questa camicia vedete è molto molto bello l'ho visto in giro da youtube ma non mi ricordo che in più avevo questo pantalone qua questo vedete che non si vede mai la mazza però questo è il pantalone che avevo e nulla questo qua è della che marca è questa maria bellentani si chiamano questo questo prende qui non lo conosco però le prende questo pantalone per è molto bello cosa insieme con la maglia che ho fatto vedere io le scarpe erano queste della like queste qua vedete no non si vede la mazza così non avrete un numero torno perché tanto me lo toglierò me le tolgo dopo questo video e niente quindi non lo so ragazze le scarpe erano queste aspettate un attimo che ve le faccio vedere comunque le scarpe ragazze erano queste qui queste qui di della nike vedete sono nike queste scritte anche qua sotto sono nike e niente nike 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 niente come qua allora niente ragazze io troppo congiungo il termine di questo benedetto videuccio perché se non riesco a montarlo anzi non lo modifico neanche perché tanto anche se non riguardate tutto per intero ma penso di sì perché non voglio più debita più dubitar di voi tanto che mi riguardante lo stesso video quindi niente vi piace il trucco fatemi sapere qua sotto fatemi sapere qua sotto se mi piace se vi piace questo video questo video sì ciao come no certo questo trucco che mi ha fatto io fatemi sapere se mi piace cosa devo modificare se potrei migliorare con questo trucco che ho fatto no piace insomma ma se per voi non è il massimo non mi piace non mi piace mi piace ma non è così brutto non si ti dico tutta la verità non mi dispiace come vedete ciao niente bacio a mi ha rimenticato all'inizio del video se questo video vi piace mettete un bel like di supporto un commento e attivate la campanella se vi iscrivete ciao ragazzi a presto un bacio ricordatevi e vi dico veramente ricordatevi di seguirmi su instagram su facebook e su twitter e sul tic toc vabbè siamo a cantare di sant'antonio però se vi basta mi farà il piacere niente voi direte ma come cacchio facciamo a seguirti se non so come i nickname dei tuoi profili non lo so cercatemi non ne vedete perché io mettere il link nell'info box mi viene male perché qua c'è tutto col telefono potrei anche farvelo il link nell'info box però mi viene male preferisco per altro non si che sta attaccata troppo al telefono cioè già tanto se commento i vostri video però mettere il link mi viene male ragazzi faccio quello che posso ovviamente non ne posso fare chissà quante cose ok niente ciao vi voglio bene un bacio ciao ZONBI APOCALYPSE